Nonostante il cantante abbia più volte espresso il desiderio di avere una famiglia allargata serena e felice, sembra che anche quest'anno dovrà accontentarsi di un altro regalo. Il rapporto tra Loredana Lecciso e Romina Pover non è mai stato dei migliori. Le due si sono legate dall'amore per lo stesso uomo, ma non riescono a convivere pacificamente con questa consapevolezza. Eppure, sono costretti a dividersi la tenuta di Cellino San Marco in Puglia, dove fanno di tutto per non incontrarsi. Per il momento, sarebbe ancora meglio così. Si sostiene che quando le due donne entrano in contatto tra loro, spesso la miccia si accende, e le loro scaramucce non sempre hanno un lieto fine. Da quando Romina Pover è tornata in Italia, Albano si è trovata di fronte a una situazione particolare. Da una parte, ha la donna con cui ha calcato i palchi di tutto il mondo. La bella americana di cui si è innamorato da giovane. Con la loro storia hanno fatto sognare e innamorare gli italiani, che ancora oggi, nonostante tutto, fanno il tifo per loro. Ma Romina Pover è anche la donna che con lui non è riuscita a superare la tragedia. La scomparsa della primogenita Ilenia li ha definitivamente, forse, separati. Non si è mai arresa, continuando a cercare sua figlia, e non perdendo la speranza. Albano accettò la sua perdita e decise di riprendersi la sua vita. Quindi, quando sua moglie è tornata in America, ha fatto di tutto per costruire un futuro felice. E lo ha fatto in compagnia di Loredana Lecciso, che non ha mai sposato ma dalla quale ha avuto altri due figli e con la quale vive serenamente. Romina Pover è tornata in gioco, e sembra disposta a tutto per riprendersi il suo amore per lei. Ha ripetutamente affermato che nessun altro uomo sarà in grado di rompere nel suo cuore. Non mancano le frecce per Loredana Lecciso. Anche sui palchi italiani, giocando con il pubblico, mette in ombra l'attuale compagna di Albano. E nel giorno del suo 78esimo compleanno non può fare a meno di sottolineare che, nonostante si sia svegliato accanto alla showgirl, è stato anche a casa sua che la cantante ha festeggiato il suo giorno speciale. Come sempre, lo ha fatto attraverso i social, coinvolgendo i suoi followers nel famoso triangolo. Se Loredana Lecciso ha pubblicato una fotografia che la ritrae appena sveglia con Albano, ancora in vestaglia, Romina Pover pubblica una fotografia dell'ex marito davanti a una torta al cioccolato preparata apposta per lui. Insomma, Albano è andata da Romina, e la cantante nello stesso momento in cui l'Alecciso ha pubblicato la sua foto insieme all'ex marito. Un vero schiaffo in faccia al nuovo compagno del cantante, che è stato ancora una volta sopraffatto. Inutile fingere. La vita del cantante di Cellino San Marco è divisa tra queste due donne. Che, purtroppo per lui, sono mal tollerati. La poligamia in Italia non è ben vista, e Carrisi dovrà darsi da fare per convincere l'Alecciso ad accettare la presenza del suo ex. Continua a dire che questo è il suo desiderio più grande di lui. Questo bel regalo di compleanno, arriverà prima o poi? La poligamia in Italia non è vero. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.